Buona giornata! Oggi siamo qui da Sovana per dei pensieri del giorno di Dostoevsky da La bellezza salverà il mondo, che sì è una frase di Dostoevsky ma anche il titolo di questo bellissimo libro in cui ci sono tanti aforismi, tante frasi, tanti suoi modi di dire, tante sue polemiche sul mondo riprese appunto dalle sue opere. Quindi oggi semplicemente una frase da una sua lettera per darvi semplicemente uno spunto all'approfondimento. In Beethoven dovunque ci sono passione e amore è il poeta dell'amore, della felicità e della amorosa tristezza. E beh, oggi con questo semplice pensiero del giorno vi voglio semplicemente, come si dice, spronare ad ascoltare Beethoven, ascoltare una qualsiasi delle sue composizioni e oggi è facile, basta andare su youtube e scrivere Beethoven e troverete tantissime tantissime sue composizioni e vi invito, proprio perché è una cosa diversa, strana, come si dice, fuori dalla nostra zona di comfort ad approfondire appunto l'amore in Beethoven, la felicità e l'amorosa tristezza. Sì, amorosa tristezza, perché anche la tristezza può essere amorosa, può essere piena d'amore, può essere ricca di gioia, di passione e quindi oggi, mi raccomando, ascoltate Beethoven e fatene parte della vostra crescita personale. Daniel Faci, per felicità e pace, Om Shanti, Shanti, Shanti. Buona giornata, ciao!